Ciao ragazzi, con questo video si apre un nuovo capitolo sulle disequazioni goniometriche e noi partiremo da quelle più semplici. Oggi vedremo il seno di x maggiore di 0 e tutti gli altri casi. Allora ragazzi, per risolvere le disequazioni goniometriche abbiamo a disposizione due metodi. Il primo consiste nell'utilizzare, come grafico, quello relativo alla funzione che compare all'interno della disequazione. Quindi, se ad esempio abbiamo il seno di x maggiore di 0, dovremo saper rappresentare il grafico della funzione seno, quindi la sinusoide. C'è invece un altro metodo che è molto più semplice e va bene se adatta per tutte le funzioni. Questo metodo consiste nel rappresentare sempre la circonferenza goniometrica, ovvero quella circonferenza che ha centro nell'origine degli assi e raggio 1. Ed è per questo motivo che nei nostri esercizi utilizzeremo sempre la circonferenza goniometrica. Dato che abbiamo che il seno dell'angolo x deve essere maggiore di 0, allora andiamo alla ricerca di tutti quei punti della circonferenza che si trovano sopra la retta di equazione y uguale a 0. Però dobbiamo capire il motivo per cui prendiamo proprio questi punti. Innanzitutto, l'equazione della retta ci viene fornita dalla disequazione stessa. Se il seno di x è maggiore di 0, vuol dire che prenderemo la retta di equazione y uguale a 0. Se il seno di x fosse maggiore di 2, prenderemo la retta di equazione y uguale a 2. Se fosse ad esempio minore di meno 4, prenderemo la retta di equazione y uguale a meno 4. Ecco da dove esce fuori quindi l'equazione della nostra retta. In generale, se abbiamo seno di x maggiore, minore o uguale ad m, allora dovremo prendere la retta di equazione y uguale ad m. L'altra domanda è, ma chi è questo seno dell'angolo x? Come si rappresenta? Come si va a studiare? Ebbene, quello che dovete sapere è che, data una circonferenza goniometrica, i punti di questa circonferenza possono essere identificati da nuove coordinate che sono il coseno dell'angolo e il seno dell'angolo. Il coseno dell'angolo è nient'altro che la proiezione del raggio P della circonferenza sull'asse delle ascisse, mentre il seno dell'angolo è la proiezione del raggio P sull'asse delle ordinate. Domanda più che lecita, chi è quest'angolo? L'angolo è quello formato dal raggio della circonferenza con il semiasse positivo delle ascisse. Esso può essere misurato sia in senso orario che in senso antiorario, noi lo misureremo in senso antiorario. In più assume dei valori precisi in punti precisi della circonferenza, lì c'è 0, poi abbiamo pi greco mezzi, poi pi greco e infine tre mezzi pi greco, che in non gradi corrispondono a 0, 90 gradi, 180 gradi e 270 gradi. Tornando al nostro esercizio, dobbiamo cercare per quali valori dell'angolo il seno dell'angolo stesso è positivo. Voi vedete che tutti i punti che si trovano sopra l'asse delle ascisse, cioè sulla retta di equazione y uguale a 0, se voi provaste a proiettare i raggi derivanti sull'asse delle ordinate, vedrete che il seno dell'angolo corrispondente è sempre positivo. Se invece provate a spostarvi sotto la retta di equazione y uguale a 0, i punti della circonferenza avranno il seno negativo. Ecco perché affinché il seno di x sia maggiore di 0, faremo variare l'angolo tra 0 e pi greco. Quindi, come soluzioni della nostra disequazione, diremo che le x saranno comprese fra 0 e pi greco. Se osservate bene, ho lasciato un po' di spazio fra lo 0 e il minore, questo perché dobbiamo ricordarci che le funzioni coniometriche sono funzioni periodiche, in particolar modo la funzione seno e la funzione coseno, dopo un angolo giro, cioè un angolo di 2 pi greco radianti o equivalentemente di 360 gradi, assumono lo stesso valore. Quindi dovremo aggiungere all'interno dell'intervallo di soluzioni più 2 k pi greco, ovve k è il parametro che varia in z e che al suo variare ci consente di capire quanti giri ha compiuto il punto p della circonferenza attorno all'origine degli assi. L'esercizio termina così, ma adesso noi ci chiediamo che cosa succederebbe se invece dovessimo andare a considerare per quali valori dell'angolo il seno di x è negativo. Allora avete capito che stavolta, tracciata la retta di equazione y uguale a 0 e in questo caso ovviamente l'asse delle ascisse, i punti della circonferenza che si trovano sotto l'asse delle ascisse hanno seno dell'angolo negativo e allora il nostro angolo dovrà variare tra pi greco e 2 pi greco. Quindi scriveremo le soluzioni di questa disequazione che sono date per x compreso tra pi greco più 2 k pi greco e 2 pi greco più 2 k pi greco. Quindi abbiamo già inserito la periodicità di questa funzione al variare ovviamente di k in z. Ora invece ci chiediamo cosa succederebbe se dovessimo considerare seno di x minore o uguale a 0. Questo vuol dire che sulla nostra circonferenza coniometrica dovremmo comprendere sia pi greco che 2 pi greco che sono esattamente i valori dell'angolo per cui il seno di x si annulla. Quindi quando andiamo a scrivere l'insieme delle soluzioni non dobbiamo fare altro che aggiungere il trattino, quindi x compreso o uguale tra pi greco più 2 k pi greco e 2 pi greco più 2 k pi greco. Grazie a tutti.